Ennesima dimostrazione che l'Europa, l'Unione Europea è sotto assedio. Quello che sta avvenendo in Francia, la protesta dei gilet gialli, certo diretta contro il governo francese, contro il presidente Macron, per decisioni di politica economica restrittiva, l'aumento delle tasse, interventi sullo Stato sociale, che non sono assolutamente adeguati, o comunque nella direzione di chi ha maggiori necessità. Quindi la popolazione insorge. Addirittura si è parlato di atti pre-rivoluzionari, chiaramente esagerando, ma certamente il malessere in Francia è molto diffuso ed ilagante. È certamente un malessere diretto contro il governo francese, direttamente, ma altrettanto certamente è un malessere che si dirige in una direzione, in uno spazio molto più ampio, perché colpisce direttamente il cuore dell'Unione Europea. In che senso? Intanto perché il governo francese è un governo filoeuropeo, ha il baluardo contro i nazionalismi all'interno dell'Unione Europea, e quindi attaccare quel governo significa automaticamente indebolire tutto il fronte europeista e filo governativo, diciamo, rispetto alle istituzioni europee. Ma qui viene attaccata anche la politica sociale, economica, complessiva dell'Unione Europea, la quale sul rigore di bilancio e sull'austerity, quindi, ha costruito la propria iniziativa politica e anche l'ideologia sostanziale che riguarda l'euro, la moneta comune. In molte economie una politica restrittiva di rigore di bilancio non ha assolutamente causato indebolimenti, non ha causato fragilità e arretramenti, impoverimenti. Si vede ad esempio la Germania, si vedono i paesi della Finlandia, l'Austria, ma anche quelle economie che erano in crisi come la Grecia, il Portogallo o la Spagna hanno avuto delle crescite importanti, nonostante le politiche restrittive sul piano economico, quindi politiche fiscali di bilancio molto rigorose. Ma questo comunque non è sufficiente per arginare un malcontento diffuso, soprattutto all'interno dei singoli paesi dell'Unione Europea, dove le disuguaglianze tra ricchi e poveri aumentano. Il PIL può crescere, l'economia in generale può andare sostanzialmente bene. In alcuni casi di più, in altri di meno, però le disuguaglianze aumentano. E laddove queste disuguaglianze sono più forti, cioè laddove questo aumento si fa più sentire, è chiaro che maggiori sono i rischi di una ribellione di carattere sociale. E la Francia per motivi interni, ma anche per ragioni storiche, si prestava a vedere un fenomeno di questo tipo, che sta diventando sempre più forte e si sta radicalizzando. Quindi la Francia può essere un primo esempio di grande e diffusa ribellione sociale contro una certa idea di politiche economiche, finanziarie, e quindi contro una certa idea di società e di politica. L'Unione Europea deve stare molto attenta perché se il fenomeno dovesse allargarsi ulteriormente e diffondersi in altri paesi europei, dove il malessere è altrettanto significativo, rischerebbe veramente di vedere minate le basi della sua esistenza politica, sociale, culturale ed economica. Quindi questi fenomeni non vanno assolutamente minimizzati, non vanno trascurati, vanno affrontati in tutta la loro portata e importanza, perché non sono effetto di infiltrazioni esterne, di episodi, di piccoli sommovimenti di carattere storico-politico, sono l'effetto di un malessere generale, diffuso e sentito, che può tra l'altro prestarsi a significative strumentalizzazioni da parte di attori e soggetti esterni che hanno tutto l'interesse a indebolire ulteriormente l'Unione Europea e le sue istituzioni. Parlo in particolare di Russia e Stati Uniti, i quali non possono che gongolare, non possono che essere assolutamente soddisfatti della piega che stanno prendendo gli eventi all'interno dell'Unione Europea. Sarebbe nel loro interesse soffiare ulteriormente sul fuoco. Per evitare questo l'Unione Europea quindi deve correre ai ripari e prendere velocemente dei provvedimenti che siano in grado di ristabilire un certo ordine e una certa pace sociale all'interno di tutti i paesi dell'Unione Europea, partendo oggi proprio dalla Francia, che è il paese che più risente di questi scompensi, di questi squilibri, che a livello sociale si sono prodotti in seguito alla grande crisi degli ultimi dieci anni, ma in seguito ancora più in generale del fenomeno della globalizzazione, che provoca queste profonde lacerazioni all'interno soprattutto delle società più ricche del pianeta.